Se io sarei un pittore, ti pitturo. Se io sarei uno scultore, ti sculto. Se io sarei un fioraio, ti fiorisco. Ma siccome io sparo i fuochi d'artificio, Mina, ti puoi dare una botta? Senti, Lanuccio, io e te dobbiamo rivedere il nostro rapporto. Sì! Hai fatto pure il filmino, miro, 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 miro. Miro, 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 miro. Vedi un'ultima loro, si mangiare, mangiare, tutto poi miro di vedere la casa. Miro, 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 miro. Grazie! Grazie!